Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Efrem e questa è Garage19. Oggi lavoretto a una Fiat Uno. In un video precedente abbiamo visto come sostituire le crociere dei giunti dei semi-asse. Oggi sostituiremo i due supporti del cambio, cioè uno anteriore e uno posteriore, e in un video successivo sostituiremo anche il supporto motore, perché in totale sono tre supporti. Eccolo qui. Questo è un braccio con il supporto collegato, nello specifico quello posteriore, e quest'altro è quello anteriore, o meglio questo supporto è quello del motore che andremo a sostituire nel prossimo video. Quest'altro invece è l'altro supporto, quello anteriore, che sostituiremo a breve. Come potete vedere è chiaramente andato, non si dovrebbe muovere così facilmente con le mani. Tra parentesi, quest'auto ha un problema al cambio, quindi sono dovuto andare a smontarlo, montandone successivamente un altro. Vedrete tutto in video dedicati. Bando alle gianci iniziamo subito. A breve come sempre like, iscriviti al canale, attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. E allora, questo è il primo supporto da sostituire, quello posteriore. Mentre quest'altro è quello anteriore. Iniziamo chiaramente mettendo un cric da fossa al di sotto del cambio, sia per reggerlo che per farlo scendere e salire. E allora possiamo iniziare con il braccio e il supporto anteriore. Ci troviamo sempre sul lato sinistro dell'auto. Come potete vedere abbiamo già rimosso qui i due bulloni da 13 mm collegati al telaio e ho già svitato i dadi da 19 mm che bloccano il braccio al cambio. E' chiaro, una volta svitati i dadi è possibile sfilare semplicemente i bulloni e il braccio viene via con tutto il supporto. Passiamo ora al supporto posteriore e anche qui ho già svitato i due bulloni da 13 mm che ancorano il supporto stesso al telaio. E poi ci sono due bulloni sempre da 13 mm che bloccano il braccio al cambio. E infine c'è un altro bullone passante con un dato che lo blocca dall'altro lato da 17 mm, questo qui sempre agganciato al cambio. Tuttavia abbiamo un piccolo problema, ovvero un pezzo di carter di cambio è rotto e spezzato ed è rimasto bloccato all'interno del braccio. Qui si vede chiaramente che anche questo supporto è da buttare. Come vi dicevo questo pezzo si è spezzato dal cambio ma a noi non ci interessa dal momento che sto effettuando questa operazione per sostituire il cambio. Cosa che vedrete in un altro video perché in pratica questo cambio qui ha problemi interni e il proprietario avendo trovato un altro cambio ha deciso di rimuovere il suo e installare direttamente l'altro cambio. Ad ogni modo vedrete tutto in un altro video. Ciao! 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 Continuando il lavoro sostituito semplicemente il supporto avvitiamo giusto a mano il bullone perché lo stringeremo una volta montato sull'auto. identica cosa con l'altro supporto l'altro braccio lo rimuoviamo e installiamo molto comodamente quello nuovo. e questo è un po' di spettacolo è un po' di spettacolo. guardiamo un po' di spettacolo, un po' di spettacolo, un po' di spettacolo. ecco qui questo è quello nuovo quest'altro è quello vecchio invece si vede a vista d'occhio che ormai le gommine sono snervate ci sono crepe e sono consumate come per l'altro supporto anche per questo avvitiamo questo dato giusto provvisoriamente con la mano perché poi lo stringeremo una volta montato sull'auto e allora siamo pronti ad installare il braccio con il supporto nuovo iniziando da quello posteriore come già vi dicevo se notate ho sostituito il cambio quindi sto già montando il supporto al cambio nuovo ed è anche per questo non vedete i semiassi collegati perché è chiaro per sostituire i supporti non c'è bisogno di rimuovere i giunti ad ogni modo procediamo ad avvitare prima i bulloni sul cambio e successivamente quelli al telaio e poi facciamo un po' un po' un po' un po' un po' non basta inserire 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 contenene Infine possiamo stringere il bullone del supporto. Identica cosa per il supporto anteriore. Prima blocchiamo e stringiamo i bulloni sul cambio e successivamente blocchiamo il supporto al telaio. Alla prossima. questi sono da 19 poi questi da 13 solo alla fine stringiamo il dado del supporto e per farlo teniamo la testa del bullone dal lato del vano motore con una chiave da 13 bene anche questo video finisce qui come sempre like se ti è piaciuto iscriviti al canale attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video ti invito come sempre a leggere qui sotto la descrizione per trovare altre informazioni utili così come ti ringrazio se effettuerai un acquisto di un qualsiasi prodotto presente su amazon tramite un link di affiliazione che trovi qui sotto perché verrà riconosciuto una piccolissima percentuale sull'acquisto e aiuterai perciò a far crescere il canale supportandolo ti ricordo infine che sono presente anche su instagram e ttok passo a dare un'occhiata trovi sempre qui sotto i link ai profili grazie e alla prossima